Ciao ragazzi, come avete letto dal titolo, qua oggi parliamo del nostro shop tour. Dove siamo? Siamo a Maranello, in viadino Ferrari 61, a pochi, pochissimi passi dal museo della Ferrari, in tanti ce lo chiedete, e noi abbiamo sì il negozio store.motosport.it, ma abbiamo anche la nostra location fisica in collaborazione e all'interno di Motosport Maranello. Loro noleggiano auto, noi vendiamo quelle in miniatura. Insomma, è un mondo tutto da scoprire, simulatori, modellini, abbigliamento, accessori, memorabilia, insomma tantissime cose. Ci tengo a dire che Motosport Maranello Store nasce da una forte passione riguardando il settore della Formula 1, chiaramente siamo a Maranello, quindi patria della Ferrari, e anche delle auto. Perché? Perché nasce appunto nella terra, nella, diciamo, nella mecca delle auto, per tutti gli appassionati. Insomma, a Maranello è un qualcosa di indescrivibile e io vi consiglio vivamente di venire qui, proprio a Maranello, poi non per forza da noi, però a scoprire questo mondo, perché c'è il museo della Ferrari, ma è un ambiente dove si respira veramente area di Motosport, di festa e di passione per le auto. Qui, di fronte a noi, invece, abbiamo anche l'autodromo di Fiorano, proprio dove delle volte girano anche delle vetture, delle hypercar, delle stradali, delle Formula 1, insieme. Insomma, se siete fortunati, può essere il giorno in cui gira una Formula 1 e voi qui all'interno del paese girate sentendo il rumore, il sound, la musica di una Formula 1, quindi è davvero un qualcosa di indescrivibile, davvero spaziale. Motosport Maranello Store nasce nel 2015, spinto da una forte passione per il motosport e inizia con il merchandising riguardante abbigliamento, riguardante tutto quello che riguarda il fanware, cioè articoli di merchandising puro, proprio. Poi dopo, insomma, è venuto il Covid del 2020, è stato un anno di chiusure, qui a Maranello non c'era un'anima viva, non c'era nessuno e abbiamo deciso di aprire la passione proprio per il mondo delle auto in miniatura, perché io, ad esempio, colleziono e sono un vero amante del collezionismo di tutte le scale, dall'1,64, addirittura dall'1,100, che le fece anche Chiosho, fino ad arrivare all'1,8, 1,5. Insomma, abbiamo trattato scale di tutti i tipi. La passione nasce proprio da lì, dalle auto, dalle auto vere per poi ridursi in scala per poterla avere nel proprio salotto, nella propria collezione, ma voi che ci state seguendo sicuramente sapete e capite quello che sto parlando, ma anche se non ci state seguendo, magari è la volta buona per entrare in questo settore, in questa nicchia, che è davvero spettacolare, perché noi siamo molto specializzati in questo settore, in questa nicchia e vogliamo ogni giorno lavorare per dare e garantire sempre più professionalità e soprattutto per offrirvi sempre un qualcosa di diverso, di aggiornato, con i tempi che corrono d'oggi, un qualcosa sempre di ricercato. Ma adesso, ragazzi, partiamo e facciamo uno shop tour dove vi facciamo vedere un po' il nostro negozio, il nostro mondo. Insomma, venite con me e andiamo subito. Qui è l'ingresso e qua troverete già delle vestiole di questo genere che vi saluteranno, però venite subito e andiamo a vedere il negozio con tutte le mie... E eccomi qua, entriamo nel vivo. Perché? Perché questo è il nostro mondo, questo è il nostro headquarter, chiamiamolo così, insomma, è il posto dove noi ci divertiamo. Cioè nel senso, qui puoi trovare modellini di tutte le scale, dalla più piccola alla più grande. Modellini del tipo Burago, quindi all'entrata troverai un vasto assortimento, è una vasta gamma di Burago, 1.43, 1.18 di tutti i tipi. Ad esempio, proprio adesso, in questo periodo, è appena uscita la Ferrari 499P della Burago. In scala 1.18 è stata richiestissima, abbiamo lavorato tantissimo anche con le preordinazioni. Questo è il numero 51, abbiamo anche il numero 50. Insomma, tutte le news le trovi direttamente qua. E qua c'è il mondo dedicato a Leburago, a GT Spirit, a Maisto, a Sunstar, a tantissimi altri brand. A Runstar anche, per chi volesse un radiocomando, ragazzi. C'è davvero una vasta scelta, io direi. E qua è un po' un modo per, se siete grandi, ritornare bambini. Se siete bambini, divertirvi. Ma a qualsiasi età, perché il modellismo è questo. Non ha età. Cioè, parliamo con persone di 5 anni come parliamo di persone di 80 anni nella stessa lingua. Nel stesso nostro linguaggio. Perché? Perché accomuna tutti. La passione per questo mondo è davvero indescrivibile, è davvero bellissima. Qua abbiamo scoperto, abbiamo creato, insomma, una specie di U dove potete girare e a ogni angolo potete scoprire modelli diversi. 1.18 come KK, come Maisto, ma Lamborghini, Ferrari, Norev, quindi Porsche, quindi brand francesi, brand italiani. Di tutto, ragazzi. Solid O, Mini Champs. C'è davvero un mondo da scoprire e qua la bellezza è che davvero si ritorna piccoli perché ci sono i grandiosi D-Cast. 1.18, apribili, non apribili, in resina, in metallo, principalmente qua siamo nel mondo dei D-Cast. Quindi modelli molto interessanti, comparti, apribili. Questo ci interessa davvero, davvero tanto. 1.43, Vroom, Spark, Mini Champs, Formula 1, Stradali, Mini Helmet. Qua è il nostro angolo, è curato e dedicato per articoli in tiertura limitata e modelli esclusivi. Una scala che è bellissima, la più collezionata in Europa. 1.43, guardate la bellezza. Per quelli che ci seguono, questo qua è il nostro tavolino magico, dove ci... Insomma, io vi faccio vedere qualche unboxing, qualche novità, qualche nuovo arrivo. Questo tavolino io ci sono molto legato perché me lo porto dietro dal 2015. Quindi questo veramente è, diciamo, un memorial dell'inizio di Motorsport Maranello Store. Questo è un tavolino spettacolare e dietro, come sfondo, abbiamo creato un po'... Una gamma di modelli 1.12, tiratura limitata, 1.10, ma anche 1.18, Mini Champs, BBR. Insomma, c'è un po' di tutto, come anche questo, ragazzi. Questo è un orologio spaziale, questo è veramente incredibile perché è stato realizzato artigianalmente. Insomma, oggetti che ci tengo a ricercarli, insomma, mi fa molto piacere. Qual è l'oggetto che forse rappresenta di più la Formula 1 e il Motorsport? L'auto? E il pilota? Il casco. Ragazzi, 1 a 2, caschini, tutti da collezionare. Perché gli 1.1 sono bellissimi, ma sono grandi, imponenti e soprattutto molto costosi. Gli 1.2 sono favolosi perché, a mio avviso, se ne possono collezionare davvero tanti, chiaramente con il tempo. Le uscite sono tanti, sono davvero bellissime, perché ogni pilota ha il suo casco, la sua colorazione, ha il suo brand. Schubert, Bell, Stilo, insomma, ragazzi, è una marea di mini helmet, dei piloti dell'epoca e dei piloti moderni. Qua potrete davvero sbizzarrirvi, cercare il vostro casco del vostro beniamino. Insomma, qua c'è davvero un po' di scelta. Siamo a Maranello, mondo Ferrari e qua entriamo fortemente nel vivo. 1.43 in resina, qualità davvero al top e altissima. BBR, MR, Luxemart, Almost Real, LCD Models, TSM Models, insomma, Tecno Model. Tantissimi brand, tutti da scoprire, tutti da vedere, qua in un percorso seguito di vetrine con modelli dedicati e con le novità del giorno che inseriamo giornalmente. E come vi dicevamo all'inizio, Motorsport 1.0 Store nasce dall'abbigliamento, quindi merchandising Ferrari, Formula 1, DTM, Michael Schumacher, Ayrton Senna, tanti brand da scoprire online e in store, mi raccomando, sono uno più bello degli altri. E qua vi voglio, perché è il nostro tavolone dedicato a modellini davvero esclusivi. E qua andiamo su MR Models 1.18 BBR One-Off, Amalgam Fine Models, insomma, qua ragazzi ci sbizzarriamo davvero tanto con colorazioni particolari, modelli unici, modelli pazzeschi, tutti in tiratura limitata, montati a mano, insomma, c'è una vasta gamma. E qui dietro, alle mie spalle, ce ne sono tanti altri, tutti da scoprire. 1.18, ma non solo, 1.12 e 1.8, come queste bestioline qui, ragazzi. Vi faccio vedere una chicca, ragazzi, questa è un prodotto ufficiale Pirelli, è la Tire 1-2, scala 1-2, cioè è la ruotina che danno al poleman di giornata in Formula 1, con il cerchio, ed è davvero una figata, è bellissima, questa è la gomma rossa, chiaramente, la soft con la quale si realizzano le pole position. Questa è davvero spettacolare, è comprensiva internamente di camera d'aria, ha la sua bag ed è speciale, davvero. In questa vetrina abbiamo dedicato un angolo riguardante le postcard, abbigliamento, guanti, caschi, tutti firmati e certificati da piloti dell'epoca e moderni della Formula 1. Una vetrina da gustare, da vedere assolutamente, emette i brividi per sapere che piloti, i nostri beniamini hanno firmato, autografato questi oggetti, quindi davvero speciale. Insomma, ragazzi, oggi il video spero vi sia piaciuto, vi abbiamo fatto entrare nel nostro mondo, nella nostra casa, e che dire, Noi vi aspettiamo di Edino Ferrari 61 a Maranello e a scoprirci anche come persone. Insomma, un abbraccio a tutti voi e come sempre, Forza Motorsport!